Un'altra giovane vita spezzata senza capire bene il perché. È successo a Riovivo, quartiere sud di Termoli. Aveva 24 anni, il ragazzo che è stato trovato legato ad una corda nella casetta dove con la famiglia era solito trascorrere le vacanze estive. A dare l'allarme proprio alla famiglia, che del ragazzo non aveva avuto più notizie anche a seguito di incessanti telefonate che da Campobasso si è messa in contatto con conoscenti della cittadina Rivierasca. Inutili i soccorsi del 118 arrivato con l'ambulanza. Non c'è stato nulla da fare per il giovane che ormai era morto già da un paio di ore da quando i soccorsi hanno aperto la porta. Soli 24 anni e una vita davanti da spendere in compagnia di amici, amori e festeggiando successi lavorativi. Il ragazzo era infatti uno studente dell'Università di Pescara. Una tragedia dunque quella che si è consumata a pochi metri dalla spiaggia sulla quale ha avviato le indagini la polizia. Al momento l'ipotesi sulla quale si lavora è il suicidio, un giasso estremo compiuto in un momento di dolore profondo che pare il ragazzo stesse provando a causa di alcuni problemi insorti in casa.